Nel summit in procura Pescara avvenuto questa mattina, carabinieri e magistrati hanno fatto il punto della situazione ad una settimana dall'avvio delle indagini per la scomparsa prima e la morte poi di Alessandro Neri. Il 29enne di Spoltore è sparito la sera del lunedì e trovato senza vita giovedì scorso all'interno di Fosso Vallelunga, sempre a Pescara. Si cerca il movente del delitto e per questo nella giornata di ieri c'è stato l'ennesimo lungo interrogatorio della madre di Alessandro, Laura Lamaletto. I carabinieri cercano di approfondire i rapporti all'interno della famiglia e cercano anche di capire quali fossero le frequentazioni del ragazzo al di là di quelle già note come l'appartenenza ad esempio al tifo organizzato del Pescara. Nelle ultime ore si è aperta anche una pista che porterebbe verso il Venezuela dove il nonno di Alessandro ha fatto fortuna prima di tornare in Italia e diventare imprenditore vitivinicolo ad Orsogna. Sulla stampa d'oltreoceano si è adombrata l'ipotesi che a Pescara possano essere arrivati sicari direttamente dal Sud America per una vendetta relativa al patrimonio dei Lamaletto. Una pista però smentita dal padre su cui comunque sono in corso le verifiche approfondite da parte dei carabinieri per un delitto che a prima vista sembrerebbe una vera e propria esecuzione. Dall'autopsia non sarebbero emersi segni evidenti di colluttazione il che porta ancora verso un delitto preordinato fatto da professionisti. La salma di Alessandro Neri al momento resta all'interno dell'obitorio di Pescara dove ieri sono arrivati i suoi familiari. A breve quindi verranno svolti i funerali non appena la salma tornerà materialmente nella disponibilità della famiglia. Parallelamente proseguono gli accertamenti sull'autovettura di Alessandro, una 500 rossa con il tettino beige ritrovata 48 ore dopo il delitto di lunedì, cioè mercoledì mattina, nella centralissima via Mazzini. Resta ancora un mistero chi abbia portato l'auto in centro a Pescara. Infatti le chiavi della 500 sono state trovate addosso al cadavere assieme al cellulare spento da lunedì sera ma indispensabile comunque per ritrovare il ragazzo in una zona di campagna poco frequentata di Fosso Vallelunga a circa un chilometro dal cimitero di San Silvestro. L'auto però, secondo il racconto del pizzaiolo del Marruzzella, il locale davanti al quale è stata trovata la vettura, non era lì martedì mattina ma sarebbe comparsa solo il mercoledì giorno del ritrovamento. Intanto il fratello di Alessandro Massimiliano in procinto di tornare dall'America, da Miami, ha affidato i suoi pensieri a Facebook dicendo di voler far di tutto per trovare l'assassino. Sulla villetta di spoltore campeggia ancora il cartello vendesi. Laura Lameletto e il figlio Alessandro, terzo di quattro, volevano andare via da Pescara e vendere tutto, forse per tornare in Toscana dove Paolo Neri disegna gioielli. Quel cartello oggi però suona come un sinistro presagio.